nei suoi tanti corsi che ha tenuto il maestro Carl Exet direttore del grex vocalis di oslo nei anni passati tutti si ricordano chi partecipava alle lunghe formule preparatorie per i vocalizzi che lui realizzava con i cori prima di iniziare una lezione e il suo percorso prevedeva due fasce due direzioni parallele tutte e due partivano da una i una era una i che era molto chiara molto in maschera e saliva verso altre vocali chiare l'altra era la i quindi una u con l'umlaut o una i un pochino più oscura e andava in un'altra direzione la cosa interessante di cui parlava spesso era di alzare gli zigomi quindi di sorridere mentre si cantava quindi parlava proprio di aprire le narici per portare il suono qui in maschera grazie a tutti Grazie a tutti.